ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video vi ripeto sarà breve sarà breve perché abbiamo un grande problema qui con me che assemble mister regus ovviamente ciao c'è un grande problema come potete ben vedere qui sotto qua c'è una luce lampeggiante su uno stemma demo manda quindi di mister regus dov'è il problema vedete voi vedete il mio mouse cioè il mio console c'è un mappamondo che gira e c'è scritto in attesi di altri giocatori in poca parola il gioco si è buggato quando lui è cresciuto l'ultima volta quando quando è cresciuto io salvai però io penso vabbè non mi sembra una cosa nessun problema invece no invece no non si può io in teoria adesso dovrei giocare insieme a lui ma lui mi sta aspettando io sto aspettando gli altri e quindi è una specie di lupe nessuno può giocare esattamente come potete ben vedere non sono un mosto perché sono già scritto samba infatti lui c'ha una stena perché siamo scambiati i salvataggi che siamo andati un po' a c'è il caldo e c'è una cosa soluzione però con grande fortuna a noi non è successo e quindi il gioco si è fermata e diciamo che si è fermata cioè non è che si è fermato però se mui crasha cioè se mui se ne andava se mui mo se ne va tipo io posso continuare a giocare se io sono nostri io me ne vado tipo tipo può continuare a giocare questo non lo so ovviamente però qui hanno fatto una prova che seguì se ne andava dal gioco vediamo se si continuano infatti si continuava il gioco senza di lui quindi non posso continuare una serie senza regus e se non è una serie più cooperativa quindi ragazzi se potete se riuscite a trovare una soluzione insieme ne siamo infinitamente grati altrimenti una serie finisce qua purtroppo è così che deve andare bene questo è molto breve in cui vi spiego cosa sta succedendo insomma se potete trovare se riuscite a trovare una soluzione di tema sotto nei commenti e niente ciao ragazzi ciao